ragazzi buongiorno amici della neo vivo iniziamo le riprese di questo grande amico grande artista ninni muzio si inizia ragazzi siamo il rec ninni muzio scena bacio ragazzi c'è ma dinamite qua lo conoscete lo conoscete chi è ragazzi lo conoscete chi sei nancy bruno ragazzi lui è nancy bruno per gli amici nancy bruno ragazzi siamo in rec insieme a luisa per il nuovo video luana per il nuovo videoclip di ninni muzio dal titolo una cosa positiva ragazzi neo vivo in azione come fa la neo vivo boom 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 e tu siamo con la testa ciao a io bye bye questo mi fa domande quando è montato quando è montato noi facciamo come tutti gli altri se ne parla per la consegna del video fra un mese e mezzo ciao Ok Allora caro Nini Muzio Noi lo facciamo con tutti gli artisti E questa è la volta anche di farlo con te Aspetta Allora mi canti un pezzo di questa tua canzone Ti sto pensando Ti sto cercando Già sto trovando una scusa per chiamarti ancora Non mi do pace Già non mi piace Il tempo che passa e mi porta lontano da te Stiamo abbolando Nini Muzio ragazzi Rec! Ne ho vivo Mi nascondo l'orgoglio da te Voglio ancora baciarti E poi sussurarti Che ti amo e sei tutto per me Sei tutto per me Sei tutto per me Ragazzi ora fa così non sia stessa come si cagnata Non si chiude le navate Bella sto pezzo Bello ragazzi mi piace Buon bombone Mario la salva tutti da sotto Siamo super stanchi Abbiamo finalmente finito le riprese Abbiamo finito le riprese del nuovo brano di Nini Muzio Ma questo è Nini Muzio? No no è bravo bravo E soprattutto voglio dire che è anche un bravo autore Mi ha fatto ascoltare dei brani ed è bravo Un bravo ragazzo Nini Muzio Non è pubblicità Non l'ho pagato per questo Assolutamente Abbiamo finito le riprese del videoclip Ti sto pensando di Nini Muzio E noi salutiamo tutti i fan di Nini Muzio E vi raccomando perché appena esce la canzone condividete Mettete like, commentate Alla grande ragazzi Ciao Ciao